Quello che state vedendo è Shinsonic Tips gigante su People Playground, che sta per mangiare ovviamente Marcello, e non sarà il solo a farlo! Ho scaricato i Sonic più terrificanti, enormi e fuori di testa che voi abbiate mai visto, e li ho sguinzagliati contro Marcello, poverino! Cioè, poverino per modo di dire! Alla fine ho anche creato con le mie manine una tortura assurda, ossia dei rulli che trascinano Marcello direttamente nella bocca di uno Shinsonic gigantesco aggiuto! Secondo voi, quali Sonic terrificanti vedrete oggi e soprattutto, riuscirà Marcello a sopravvivere alla tortura finale? E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere! Buona visione! Boggo! La smetti di portare gente a caso su People Playground? Ho capito che mi vuoi torturare, ma chi è sto imbecille? Che c'ha tutta la maglia strappata? Ma Marcello, Marcello trattalo bene, non farlo arrabbiare! Tra l'altro ti piace la mia nuova pistola Blue Sonic? Perché in questo video proveremo su di te i Sonic più pazzi, assurdi e terrificanti che voi abbiate mai visto! Anzi, che tu abbia mai visto! No, no, non devo puntarla a lui che se si arrabbia è un problema! Perché se si arrabbia è un problema è un semplice umano! Io sono un clone, io sono Marcello, lui è una persona, tu sei un cane, Sonic è un riccio o quel che è! Questa è una persona, che cosa vuoi che mi faccia? Non ha neanche un'ar- Eeeh, Marcello io te l'avevo detto di non farlo arrabbiare, ma posso prenderlo con Hulk? Vieni qua, vieni qua, è schifoso! Lo posso lanciare, lancialo, lancialo! Io faccio i bicipiti con Marcello! Uno, due, tre, guarda- Questo mi ha fatto molto ridere Marcello, sei ancora vivo, guarda! Un elastico, guarda! È morto, che schifo! Aspetta, giochiamo a pallavolo, lo lancio e bow! Molto bene, ma la pistola di Sonic funziona sul Hulk? No, aspetta, oh, cammina, cammina, cammina! Adesso sei in arresto, sei il mio ostaggio! Prendiamo Marcello e non lo so, gli diamo una testata, oh mamma mia! No, questo potrebbe essere un gravissimo problema! Hulk, Hulk, scendi! Scendi dalle mie gambe, imbecile, infame! Mori, mori, non muore, non muore! Hulk non muore! Credo che Hulk sia immortale! Sì! Dove? Dove sta andando Hulk? Allora, è il momento di mettere un muro di Marcelli, che serviranno a bloccare Hulk, a farlo tornare in giro! Fermati, Hulk! Fermati qui! Ritrasformati! Molto bene, prendiamo la pistola... Aspetta, no, ho sbagliato! Ho sbagliato! Mi serve un poggo, un poggo! Vini qua! Ok, adesso, Hulk, dobbiamo parlare! Dov'è la pistola? La pistola era nella sezione dei Sonic! Anzi, altro che pistola! Dammi l'armatura! Un secondo, Hulk, grazie mille! Io sono Iron Man! Io posso volare! Ora, stupido imbecille! Non trasformarti, altrimenti... Ops! Si è andando a fuoco! Sta morendo! Ops! Sta more... Sta... Sta morendo! Sta morendo! Squagliati! Sì, sì, quando non ti... No, no, no... Oh, 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 oh! Stavo dicendo, quando non può trasformarsi in Hulk, allora è vulnerabile! Il problema è che ho trasformato Hulk in Ghost Rider! Ehm... Come... Come faccio? Ok? Riprendi un attimo il volo... Ah! Mi sono cagato addosso! Mi sono spezzato le mani! No, 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 no! Io! Io, aspetta, sono Iron Man! Posso followarmi? Guarda, io sono Iron Man! Adesso facciamo un bel giro e... Ehm... Ehm... Io sono... Io sono Iron Man! Sì! Io sono Iron Man! Sono morto! Di Iron Man è rimasta solo la testa... Di Iron Man non è rimasto più niente perché è caduto nel fuoco come... Dai, dai, levati! Levati! Iiii! Maledetto people playground! Come lo battiamo Hulk? Con Tony Stark! Io sono... Iron Man! Aspetta! Io sono... È caduta l'armatura! Io sono... Io sono... Ah, Iron Man! Ah, Iron Man! Come funziona sta armatura? Ah, non si può! Aspetta! Io sono Iron Man! Guarda che figo! Aspetta! Vogliamo preparare i propulsori! Molto bene! Non riesco a prendere il braccio! Ok! Preparare il colpo in faccia! Pow! Dai! 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 Ragazzi! Ragazzi non muore! Ragazzi non è possibile che hanno... No! Ho sbagliato! Ehm... C'è Tony Stark che sta avendo un grave problema! Con cosa possiamo ammazzare Hulk? Con un Pokémon! Vai Greninja! Scelgo... Greninja è morto! Vai! Squirtle! Scelgo te! Sta facendo la pipì sul ginocchio! Sta lavando Hulk! Va bene non serve! Vai! Charmander! Scelgo te! E no! Fino a due secondi fa stavano andando a fuoco! Pikachu! Scelgo te! Oh! Finalmente iniziamo a ragionare! Stupido maledetto Hulk! Sì però... Però è ancora vivo! Non subisce danno! Non subisce danno! Sonic! A proposito di Sonic! Ok! Oh mamma mia! Vai! Ho sbagliato! Vai Sonic! Aspetta che lo follow! Vai Sonic! Vai! Aspetta! Aspetta! Ho sbagliato! Ese! Ok! Schiaccialo! Schiacci! Come gli è finito Sonic in testa! Va bene neanche Sonic si può usare! Io non so più che pesci prendere! Oh guarda ci sono dei... Sonic.exe tipo Soul Shadows! Sì ma questi fanno cagare! Chiamiamo i veri Sonic! Tipo lui! Mamma mia quanto è grosso! Ragazzi è terrificante! Vieni qua! Ulco! Vieni qua! Aspetta! Allora fermo! 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 Prendi la mano! Prendi la mano! Prendi la mano! Ok! Ok! Perfetto! Adesso gli attacchiamo Ulca alla mano! Possiamo farcela! E mo lo prendiamo! Vieni a papà! Vieni a papà! Guarda guarda guarda! Ho preso Ulca in fiamme con questo specie di Sonic.exe! Come si chiama? Non c'è neanche il nome! Un attimo! Mangia! Mangialo! Mangialo! Mangia! Aiuto! E mamma mia! Va bene! Va bene! Ho capito! Ho capito tutto! Nessun problema! Nessun proble... Credo di aver fatto crashare il gioco! E vivo Ulco è morto? C'è nessuno? Aspettate che devo un attimo capire dove è andata a finire la gente! Potete riaccendere un secondo le luci? Johnny non vedo niente! C'è Sonic che è esploso in mille pezzi! No quelle sono bombe atomiche che stanno cadendo in pavimento! Mi sono cagato! Vabbè! Penso che questo possa essere un grave problema! Penso che questo possa essere un grave problema! Elimina Sonic! Elimina Sonic! Ok! Ok! Allora! Allora! Signor Ulca! Signor Ulca! Qui! Patti chiari e amicizia lunga! C'è qualcosa di veramente creepy e terrificante! Tipo il martello di Sonic! Wow! Utilissimo! Cosa c'ho? Dirò! È tornato indietro però! È tipo il martello di Thor! Cosa c'ho di veramente terrifi... Scusa un secondo! Ma funziona? Aspetta! Credo che questo possa... Non so più come si parla! Credo che questo possa essere un problema! Ho trasformato Ulca in una specie di bruco infernale! Bruco! Allora! Dov'era la cosa? L'estintore! Datemi un estintore per favore! Che fa rima con estintore! Ragazzi dove lo trovo un estintore? Estintore! Estintore! Eh! Me lo spengo Hulk! Posso disattivarlo Hulk? Aspetta! Fermo! 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 Si sta andando a mangiare i pezzi di Marcello! Che schifo Johnny! Grazie! Grazie mille! Abbiamo eliminato un problema! Ora facciamo mangiare Marcello ai Sonic che ho scaricato! Prima però una cosa proprio velocissima! Dov'è che l'avevo messo? Eccolo qua! Dammi un po' godoggo! Questo è il grappling hook! E che aspetta che aspetta che non riesco a prendere il braccio! Ok questo è il grappling hook! Proprio come Batman! Aspetta! Non ho capito! Proprio! Si aspetta! Oh! Proprio come Batman! Ok! Vai! E se è un imbeci... Dove va? Aiuto! Come faccio? Ok! Non funziona! Facciamo che non avete visto niente! Volevo solo provare una... Facciamo che non avete visto niente! Non so che cosa volessi fare! Ora! Iniziamo proprio da questo Sonic! Guardate quanto è grosso! Qualcuno di voi sa il nome di questa bestia? Tra l'altro! Tra l'altro! Alla fine proveremo anche Shin Sonic! E Shin Sonic videocassette! Ma poi perché si chiama Shin Sonic Tapes? Cioè! Tapes sarebbe videocassette! Perché si chiama Sonic videocassette? Non ha senso! Cioè! Dovrebbe essere Shin Sonic e basta! Perché Tapes è il coso là! È il genitivo sassone! Cioè le videocassette di Shin Sonic! Però a quanto pare si chiama Shin Sonic videocassette! Va bene! Non c'è problema! Ok! Adesso mangia! Guarda! Guarda! Mangia! Buono! Buona papà! Ti è piaciuto? Buono! Cioè! A papà nel senso! Non che Sonic sia mio figlio! Ok! E questo! No! Select anyway! Che cos'è? È lo stesso ma c'è un ferro di cavallo! Che cos'è? Il cappello gli posso mettere? Guarda quanto è bello! Marcondiron di rondello! Poi prendete un bel Marcello! Marcondiron di rondello! Prendete il piede! E fate... Prendete un altro! E poi prendete il piede di nuovo! Il piede! Piede di nuovo! Il piede di nuovo! E fate... Poi prendete il piede di nuovo! Sono pazzo! Sono pazzo! Va bene? Sono completamente andato di testa! Adesso vi faccio vedere gli altri Sonic che ho scaricato! Tipo questo Sonic.exe che sembra tranquillissimo! In realtà è la cosa più creepy che io abbia mai visto nel mondo! Ok! Lo prendiamo! Posso prendere Marcello? Guarda! Aspetta che c'è i coltelli! Aspetta! Eh! Ok! Un secondo solo! Me ne serve un altro! Prendiamolo dalla testa! Aspetta! Preso! Preso! Ok! L'ho preso! Non l'ho preso! Marcello puoi ficcarti nel coltello? Marcello coltello! Allora! Non mi rend... Non mi... Scusa! 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 Ok! Fermo così! Fermo così! Prendilo! Prendilo con le tue grinfie! Prendi! Non lo posso prendere con le mie grinfie! Ah! Forse solo con quello di destra! Aspetta! Aspetta! Eh sì! Che però si è buggato! Si è buggato! Maledetto! Stupido! Sonic! Ok! Un secondo! Se lo faccio mangiare! Ok! Guarda! Guarda! Mangialo! Oh! Guarda! Che schifo! Gli è rimasto il sangue attaccato! Oh! Guarda! Sonic.exe che mangia Marcello! È la cosa più bella del mondo! Poi arrivo io! Arrivo io e gli dico... Uè! Sonic ma tu sei azzurro come il Napoli! E lui mi dice no! E mi tira un calcio! Poi prende Marcello e se lo continua a mangiare! Molto buono! Quanto pare a Sonic non potete fare domande! Né tantomeno a Sonic.exe! Questo è un maiale che sorseggia del vino con un cappello da gentleman, un papillon e una rosa in bocca! E voi vi starete chiedendo Poggo ma che c'entra un maiale? Non lo so! Però il maiale perde sangue! Quindi probabilmente c'è qualcosa dentro questo maiale! Cerchiamo di aprirlo! Vediamo cosa c'è dentro! Non capisco! È questo che perde sangue? No! Continua... Aspetta! Continua a perdere sangue! Attenzione! Attenzione! Cosa c'è al suo interno? Guarda! Ma c'è una persona dentro! Ragazzi! Credo ci sia una persona dentro! Johnny, hai per caso messo Marcello nel maiale? Questo potrebbe essere un grave problema del quale discuterò dopo con le autorità! Poi abbiamo Mini Monster Sonic... Eh? Mini Monster Sonic Sonic Tapes! Nomi più normali? No! Cos'è il Mini Monster Sonic Sonno? Mamma mia! Tralasciando che è fatto davvero bene! Guarda! Muove le zampe! Fico! Mettiamoci sotto Marcello! Ah! Ma è piccolino lui! Guarda! Plop! L'ha mangiato! L'ha mangiato! Però aspetta! Questa zam... No! Questa zam... Questa zam... Questa zam... Oh! Questa zam... Questa zam... Oddio! Si è buttato tipo a Delfino su Marcello! Ce n'è anche uno gigantesco! Che non è il più gigantesco! Guardate quanto è grosso questo Shin Sonic Tapes! Shin Sonic Sonic Tapes! Quel che è? Che chiude la bocca! Quindi... Visto che chiude la bocca... Beh, faremo una cosa un po' particolare... Ho sbagliato! Scusate un attimo che lo respawno! Ho sbagliato di nuovo! Scusate un attimo che lo respawno! Facciamo una cosa un po' particolare! Lo giriamo! È esattamente esatto! Proprio così! Lo frizz... Eh no! A quanto... Aspetta un attimo! So come fregarlo! Perché se io frizzassi solo una parte frizzabile... Aspetta, aspetta... Eccola qua! Freeze! Lui dovrebbe ma... Ok! Fantastico! Lui si mantiene... Ma non chiude la bocca! Ho frizzato tutto! No! Ho frizzato tutto! A quanto pare non funziona! Quindi... Noi... Faremo così! Appenderemo dei Marcelli nella sua bocca! Non così ovviamente! Non così! Arcello! Ok! Vai nella sua bocca! Perfe... Non so... Non so! Qualcuno mi aiuti! Ne attacchiamo uno! Molto bene! Poi facciamo la stessa cosa con... Aspetta! Facciamo la stessa cosa con altri Marcelli! Guarda! Non hanno il collo! Perché non hanno il collo? Mettiamo un altro qua! Et voilà! Ora tecnicamente... Se Shin Sonic chiude la bocca... Non chiude... Ah! Sì! Bellissimo! Non riuscivo a fargli chiudere la bocca! Si è salvato questo Marcelli! Non credo si sia... E invece si è salvato! Ragazzi si è salvato questo piccolo Marcelli! Aspetta un secondo! Mi serve l'altra... Mi serve l'altra gam... Mi serve questa! E non è il più grande! E non è il più grande! Adesso ve lo faccio vedere io! Il vero Shin Sonic! Guarda quanto è grosso! Guarda quanto è enorme! È terrificante! Tra l'altro io ho anche Godzilla! Che è più piccolo! Cioè Godzilla è più piccolo! Fra! Guarda Marcello in confronto a una gamba! Scusate... Ma questo era Shin Godzilla! Che è ancora più piccolo! No! No! Mi sa che i Godzilla stanno partendo! Che bello! La scoteca! Ok! Va bene! Adesso questo si può chiudere! Bello! Si può chiudere! Lui però mi sa che lo possiamo mettere così! Bellissimo! È diventato un bruco! Freeze! Ottimo! E non si... Ho capito però! Scusami! I'm freeze! Ah vedi però! Aspetta è vero! Lo possiamo legare! Lo possiamo... Ok! Guardate l'abbiamo legato! Mo stai buono qua! Stai fe... Ah! Stai fe... Guarda che bello! Guarda! E gna! E gna! E gna! E gna! E gna! Ma se creassimo un sistema di carrucole! Che trascinano Marcello direttamente nella sua bocca! Esistono le carrucole? Su questo gioco? Dai dimmi che esistono... Non esistono le carrucole? Possibile? Come no? Il sistema quello là che fa trascinare le persone? Decoopler! No a me servono le carrucole! Non ci sono le carru... E questa? No? Questa è una piattaforma di lancio? Dai! Io mi ricordo ci fossero le carrucole! Ah! Eccole qua! Molto bene! Se noi le fermiamo tipo così... Funzionano! 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 Molto bene! Molto bene! Molto bene! Aspetta! 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 Noi facciamo così? Facciamo che scendano direttamente da qua? E creiamo un grande sistema di carrucole che trascineranno direttamente Marcello nella bocca di questo Sonic Godzilla ambiguo che non avevo mai visto! Aspetta un secondo! Aspetta un secondo! Così dovrebbe essere abbastanza... Ok! Perfetto! Queste le andiamo a collegare così, 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 così! Ci siamo eh! Ci siamo! Ora possiamo addirittura fare così e copiarla direttamente con l'adesivo! Ok! Cioè che poi non è l'effettivo adesivo ma... Aspetta! È la corda che le lega al muro! Fatto! Fatto! Le accendiamo tutte! Mamma mia! Magnifico! Magnifico! Ora vediamo se funziona! Spawniamo un Marcello! Vai! Ragazzi! Ragazzi! Followiamo Marcello! Probabilmente funzionerà! Probabilmente funzionerà! Marcello direttamente nella bocca di Sinsonic che non si è capito se è Sonic videocassetto o meno! Vai! 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 Aspetta! Vai! Nella bocca così! E poi... Al prossimo video! Io sono paccio!